E soprattutto la programmazione che si cercherà di definire pure in vista del prossimo anno. In prefettura ancora una volta il tavolo convocato è servito a fare il punto sulla situazione idrica in città. Il sindaco Di Stefano e l'assessore Franzone hanno potuto sviluppare più punti in presenza dello stesso prefetto, del presidente Aticonti, dei referenti di Siciliacqua e Caltacqua e di rappresentanti di Eni. Siciliacqua a stretto giro darà una risposta sul possibile incremento di altri 10 litri al secondo all'area di Giardinelli, in territorio di Vittoria, che già garantisce quantitativi. Attualmente la portata complessiva per Gela si aggira intorno ai 140 litri al secondo. Di Stefano e Franzone stanno cercando di ottenere l'assenso per un incremento ulteriore. Il bacino Ragoleto attraverso Eni fa fluire tra i 62 e i 65 litri al secondo. Ci sono poi pozzi pantanelli. Si vuole accelerare rispetto al raddoppio del potabilizzatore di Caltacqua, anche se gli interventi sono previsti per il prossimo anno. I disservizi di queste ultime settimane hanno confermato l'urgenza di un adeguamento strutturale della rete. Quella di Salleo, che ha subito il guasto poi riparato, sarà sottoposta a sostituzione nei prossimi giorni come confermato ai riferimenti tecnici di Siciliacque. La situazione generale sta man mano rientrando, ma non tutte le zone ricevono forniture regolari sulla base del calendario indicato a Caltacqua. Sia l'amministrazione comunale sia la Tidrica, la scorsa settimana nel corso di un incontro in municipio hanno preteso efficienza rispetto alla turnistica. Lo hanno ribadito in prefettura. Proprio il prefetto sta monitorando con attenzione la vicenda Gela e non solo. Si guarda ad una programmazione adeguata che attraverso i pozzi e il bacino del ragoleto dalla prossima estate assicuri acqua ogni giorno. L'obiettivo è proprio questo, come spiega l'assessore Franzone. Ci sono problemi strutturali. Mancano almeno altri 10 litri al secondo, ma si sta lavorando affinché la prossima estate non debbano più esistere disservizi come quelli causati dai guasti alla rete.